Nel Vangelo di oggi preso da Luca al capitolo 8 versetto 19 e seguenti leggiamo tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti ma egli rispose mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. I figli possono andare via di casa allontanarsi ma le mamme restano loro sempre legate. Dopo tanto tempo Maria nella sua umanità sente forte il desiderio di rivedere suo figlio e così un giorno parte da Nazareth per raggiungerlo lì dove parla la gente. Gesù riceve la notizia che è giunta la sua mamma ma non le va incontro non abbandona la predicazione fuori la madre lo attende con ansia desidera vederlo parlarci e lui mia madre i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. I legami di sangue di parentela ora contano poco rispetto al regno di Dio che avanza c'è un nuovo legame profondo spirituale che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica comincia a vivere il legame profondo con Gesù. È necessaria la fede cioè obbedire, obaudire cioè ascoltare stando di fronte in poche parole ascoltare e attuare la sua parola allora si diventa familiare di Gesù. Suo discepolo è colui che è chiamato ascolta la parola di Dio, fa alleanza con Dio e messo alla prova sa testimoniare che solo Dio è da amare. Il fatto che Gesù non va incontro alla madre cosa che sarebbe ovvia può sembrare una delicatezza nei confronti di sua madre e dei suoi amici e familiari. In realtà per Maria è il più grande riconoscimento perché non c'è nessuno che più di lei ha ascoltato e messo in pratica la parola di Gesù. Proprio lei è la perfetta discepola che ha obbedito in tutto alla volontà di Dio. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.